Buonasera, buonasera, benvenuti, benvenuti all'accetto commerciale Galassia, benvenuti a Non Solo Sport, benvenuti per questa che è oggi una giornata storica, una giornata che rimarrà per noi tifosi piacentini perché siamo qua per presentarvi la maglia del centenario del Piacenza Calcio. E' stata prodotta nel 1919 perti, verrà venduta senza sponsor perché è la maglia storica del Piacenza Calcio ed è giusto che venga venduta senza sponsor. Permetteteci di regalare la prima maglia del centenario alla famiglia Revoli, visto che la prima maglia del centenario è dedicata a Norte, per i bambini, per i bambini. Sono sette, otto anni quest'anno e quest'anno cercheremo di andare in Serie B perché ce lo meritiamo con tutti gli sforzi che stiamo facendo, abbiamo la nostra grande soddisfazione che abbiamo riportato la nostra piacentinità nello stadio Garilli e cerchiamo di continuare sempre di più questo nostro progetto. La squadra era già organizzata per poter lottare per il vertice, con la mia giunta credo che si sia consolidato questo aspetto. Il primo scalino è andare in B, prima possibile approfittare di quest'anno che sicuramente tutta una serie di coincidenze sono favorevoli. Il centenario, la squadra, un organico compatto, uno spogliatoio perfetto, una società che secondo me anche in B ha poco da rimodellare perché ci sono dei ragazzi che lavorano nelle varie ruole singoli di responsabilità molto 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 bene e quindi quelle persone intelligenti si lavorano bene.